Vangelo del giorno, 14 febbraio 2023. In questo giorno, in cui molti sottolineano l'amore tra una coppia, tra due fidanzati, tra due coniugi, a partire dal San Valentino, a mio avviso il Vangelo ci mette dinanzi ad una realtà e ci dice che a proposito di amore, in questo nostro mondo ci sono tanti assetati dell'amore di Dio, ma purtroppo ci sono pochi discepoli disposti a dare da bere questo amore di Dio. Per capire bene, ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e gli inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo al lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. Ci sono gli operai del Vangelo che sono i sacerdoti e allora dobbiamo pregare sempre per le vocazioni sacerdotali perché la bontà della Trinità possa mandarne sempre tanti, perché questo mondo ha bisogno di operai del Vangelo. Ma ci sono gli operai dell'amore che siete tutti voi cari fedeli, che avete la responsabilità di essere dispensatori dell'amore di Dio nel mondo. E sono tanti i modi, i mezzi. C'è chi si dedica nell'ammaestrare i fanciulli, nel catechismo. C'è chi si dedica nell'alleviare la sofferenza con gli ammalati. C'è chi si dedica nel sfamare chi è affamato, nel vestire chi è nudo. C'è chi si dedica in qualche modo a portare il Vangelo nel mondo, agli altri, ai fratelli. Tutti i modi di amare e di dispensare amore. E dobbiamo pregare anche per voi cari fratelli e sorelle perché sempre di più cresca il numero di uomini e donne che nel nome di Gesù Cristo di amore, dispensi amore. E allora oggi chiediamo questa grazia al Signore che ci mandi sacerdoti santi, dispensatori dell'angelo e che ci manda uomini e donne sante, disponibili, che diano amore a chiunque incontrano. Grazie.